Nuovo appuntamento con l'informazione di Globus Television, canale 819 del Digitale Terrestre. In apertura la misura cautelare degli arresti domiciliari eseguita dalla stazione dei carabinieri di San Giovanni La Punta, a carico di un catanese di 36 anni. Il giovane, secondo l'accusa, era riuscito a darsi alla fuga a seguito dell'intervento dei militari della stazione di San Giovanni La Punta, quando erano stati arrestati in fragranza di reato tre catanesi rispettivamente di 42, 49 e 53 anni, tutti appartenenti ad un sodalizio criminale dedito al compimento di furti in abitazione. In particolare in occasione dell'ultimo furto per pretato, il gruppo aveva utilizzato una Jeep Renegade, già notata in altri analoghi raid compiuti dal gruppetto. L'autovettura localizzata dai militari è stata seguita discretamente sino a via dell'Aratro di Catania, dove i militari sono intervenuti arrestando i tre uomini, ma anche raccogliendo gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'odierno destinatario della misura cautelare, che nell'occasione era riuscito a darsi alla fuga, oltre che sequestrando, oltre alla smeridiatrice utilizzata per aprire la cassaforte di un appartamento, anche la refurtiva, consistente in orologi monili, per oltre 15.000 euro e 4.600 euro in contanti. Continuiamo con la cronaca. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Randazzo hanno arrestato un ventenne di maniace, denunciato in stato di libertà un sedicenne di bronte, indiziati di detenzione di sostanza stupefacente in concorso ai fini di spaccio. Nella tarda serata di ieri, i militari sul viale Catania hanno proceduto al controllo, tra gli altri, di due giovani a bordo di una Golf in transito. Ad attirare subito l'attenzione dei militari sono stati il forte e riconoscibile odore di sostanza stupefacente proveniente dall'abitacolo dell'autovettura, nonché l'evidente stato di agitazione di entrambi i giovani. All'esito delle perquisizioni personali e dell'autovettura, i carabinieri hanno rinvenuto, occultati all'interno del vano fusibile del mezzo, una busta di cellofan contenente 110 grammi di marihuana ed un bilancino di precisione, nascosto all'interno del portabagagli. Mentre il sedicenne è stato trovato in possesso di un grinder in metallo, intriso di marihuana e cartafiltri a doppia striscia. La perquisizione successiva dell'abitazione del maggiorenne ha consentito di rinvenire e sequestrare nella camera da letto del giovane la somma di 1.530 euro, suddifisa in banconote di diverso taglio, ritenuta provento di spaccio. La sostanza stupefacente sequestrata è stata sottoposta ad analisi di laboratorio, i cui risultati hanno consentito di stimare in circa 500 le dosi rincavabili. Il ventenne è stato sottoposto all'orbiligo di firma alla polizia giudiziaria. Ancora cronaca, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontana Rossa hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne catanese indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato. Nell'occasione i militari attirati e guidati dal fiuto del cane zero si sono indirizzati in via Zialisa davanti alla porta di un locale in disuso adibito ad attività commerciale nella disponibilità del 32enne dal cui interno proveniva un forte odore di marijuana. Mediante l'apertura di una finestra da parte dei vigili del fuoco, i militari sono riusciti ad ispezionare il luogo rinvenendo occultate tre buste di plastica vuota, una busta contenente 825 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale idoneo al confezionamento. A seguito di una più approfondita ispezione dei locali, i militari hanno constatato che il locale era alimentato elettricamente mediante un cavo collegato all'appartamento sovrastante, anche quest'ultimo in uso all'uomo, ed allacciato a sua volta abusivamente alla rete elettrica Enel. L'uomo è stato associato, su disposizione dell'autorità giudiziaria, presso la casa circondariale di Noto. Ancora carabinieri in azione, quelli di stavolta della stazione di Sant'Agata Libattiati, che hanno arrestato un 66enne di Gravina di Catania, accusato del reato di estorsione. Nella tarda mattinata di ieri, una donna del posto si era presentata in caserma per sporgere la denuncia del furto della sua borsa, lasciata incustodita nell'auto parcheggiata, nei pressi di via Leucatia, mentre si era allontanata per pochi minuti ad acquistare dei giornali. La distrazione della donna non sarebbe sfuggita al 66enne, che davanti a lei Dicola l'avrebbe attenuta, cercando di fare conversazione, mentre un complice si impossessava della borsa. La denuncia non era ancora completata, quando alla donna è arrivata una chiamata estorsiva, ascoltata anche dai militari. Lei è la signora della borsa? Mi sto interessando per avere i suoi documenti, se mi porta 100 euro glieli farò ritrovare. Ancora in credula, la donna rassicurata dai carabinieri ha accettato l'interessamento, concordando pertanto un appuntamento con l'ignoto interlocutore. Lo scambio è avvenuto nei pressi dell'Eldicola e a presentarsi all'appuntamento è stato lo stesso uomo che aveva gentilmente conversato con la donna, talché appena intascate le due banconote da 50 euro, i cui numeri seriali erano stati precedentemente annotati in caserma, ha indicato alla donna il luogo dove avrebbe ritrovato la borsa. Ai carabinieri prontamente intervenuti è bastato riscontrare i seriali delle banconote e l'utenza telefonica dell'uomo da cui è partita la richiesta estorsiva. Espletate le formalità di rito, il 66enne, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto agli arresti domiciliari. E cambiamo adesso argomento. Nella cattedrale di Acireale è scoperta una cripta con un affresco. Nella basilica cattedrale appunto è stata rinvenuta una cripta con un pregevole affresco che ritrae Gesù crocifisso. Un giovane con gli occhi aperti, sguardo sereno e anime purganti avvolte dalle fiamme. L'architetto Paolo Bella ha condotto gli studi storico-architettonici della basilica cattedrale di Acireale che nello specifico hanno interessato l'aspetto più nascosto dell'intero edificio monumentale. Gli studi di ricerca effettuati grazie all'ausilio di apparecchiature termografiche ed endoscopiche hanno permesso di appurare la presenza di un vano sepolcrale al posto al di sotto della pavimentazione. Infatti, l'attuale basilica occupa tuttora quella che in origine era un'antica area cimiteriale. Lunedì 24 gennaio alla presenza dell'architetto Paolo Bella, del parroco Don Mario Fresta, dell'architetto Antonio Caruso e dei restauratori Dottor Gianluca Musumeci e Dottor Carmelo Calvagna si è provveduto alla rimozione di una porzione della pavimentazione posta all'interno della cattedrale. Creata l'apertura, è stato possibile accedere alla cripta ed ammirare l'affresco. Il vano si presenza in buono stato conservativo sia per quanto riguarda gli intonaci che la struttura muraria come anche i colatoi. Si tratta di una scoperta non indifferente che dimostra quanto il sottosuolo sia ricco di opere e manufatti ancora celati. Sono in corso lavori di studio e messa in sicurezza del sito al fine di accertare in quale periodo storico a quale periodo storico risalga il ritrovamento. Cambiamo ancora argomento. Ha attivato il servizio di sicurezza e soccorso in montagna della Polizia di Stato in località Etna Nord Piano Provenzana. Ve ne avevamo già parlato oltre un mese fa. Il servizio è svolto da tre operatori della Polizia di Stato abilitati presso il centro di addestramento alpino di Moena. i poliziotti effettuano una forma specializzata di controllo del territorio sulle piste da sci e nell'area montana dell'Etna che si inserisce nel più ampio quadro dei servizi di prevenzione generale e soccorso pubblico assicurati dalla Questura di Catania. Nel primo mese di attività sono stati effettuati oltre 90 interventi di soccorso per incidenti sulle piste da sci ed in alcuni casi è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto dei feriti in considerazione della gravità delle lesioni da essi riportate. Come accaduto da ultimo il 22 gennaio scorso quando a seguito di una caduta autonoma in pista un uomo abbattuto la testa sulla neve ghiacciata e nonostante indossasse il casco di protezione ha perduto momentaneamente i sensi avvisati via radio i poliziotti sono intervenuti tempestivamente per prestare i primi fondamentali soccorsi al ferito il quale si presentava confuso e spaventato tanto da non ricordare l'accaduto considerati il freddo intenso il vento molto forte e le condizioni dell'uomo gli agenti lo hanno trasportato a valle in sicurezza a bordo della loro motoslitta per poi affidarlo alle cure mediche i tre poliziotti non si sono limitati ai soli interventi di soccorso in caso di infortuni ma si sono prodigati anche fuori dalle piste per assistere gli utenti della montagna in difficoltà conformemente a quel concetto di prossimità ai cittadini che contraddistingue tutta l'attività della polizia di stato e adesso ci spostiamo a Catania dove è stato presentato nel foyer del teatro Massimo Bellini il progetto multimediale narratori e compositori di Sicilia nato dalla collaborazione tra teatro Massimo Bellini e teatro città e università degli studi di Catania seduti al tavolo i rappresentanti delle istituzioni e degli enti partecipanti nel comune intento di promuovere e valorizzare gli obiettivi di un progetto ambizioso ed articolato che punta sulla potente diffusione sul web per esaltare in particolare connubio tra parola e musica quello tra le pagine dei grandi della letteratura isolana le partiture concepite oggi per l'occasione da rinomati compositori siciliani sono previste cinque puntate in ciascuna il racconto di uno scrittore si intreccerà alla composizione dedicata i testi di Luigi Capuana Giovanni Verga Luigi Pirandello Leonardo Sciascia ed Ercole Patti saranno così accostati nell'ordine alle melodie originali di Luciano Maria Serra Matteo Musumeci Gioe Schittino Giuseppe Emanuele e Mario Garuti ideato da Orazio Torrisi con l'adattamento teatrale e la regia di Ezio Donato e la consulenza musicale di Giuseppe Calanna il ciclo narratori e compositori di Sicilia vanta un cast artistico d'eccezione l'orchestra del Teatro Massimo Vincenzo Bellini diretta da Leo Catalanotto e gli attori Pippo Pattavina Andrea Tidona Ezio Donato David Cocco Riccardo Maria Tarci ed Evelyn Fama con questo era tutto vi ringrazio per essere stati con noi vi ricordo che potete trovare tutti gli approfondimenti sulle pagine facebook Globus Magazine e Globus Television oltre che sul canale 819 del digitale terrestre vi auguro buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti